Albano e la clamorosa ammissione sui figli. È la mia preferita. Ecco chi è il celebre Albano, ha fatto una rivelazione, raccontando chi è la donna che ama di più. Retroscena inaspettato. Ecco tutti i dettagli. Si tratta di uno degli artisti più iconici del panorama musicale. Albano è un volto amatissimo dal pubblico e apprezzatissimo dalla critica. Il suo talento immenso è lo specchio della sua brillante carriera e la sua voce straordinaria ha fatto innamorare i fan. Di recente, lo abbiamo ammirato in compagnia della bellissima figlia, Jasmine, nel celebre format The Voice Senior. Al termine di un'esibizione del programma condotto da Antonella Clerici, la piccola di casa Jasmine sulla canzone di Ruggero, ha preso la parola dicendo. Mi ha colpito il brano perché io ascolto Ultimo, e non me lo aspettavo. Poi anche la tua timbrica, e il tuo cuore. Papà Albano, con ammirazione, guarda la figlia e dice. Ti sto studiando. È la prima volta che facciamo qualcosa insieme, e ti sto scoprendo. Pensavo fossi solo rap e trap e invece c'è molto altro. Albano in famiglia, ha una cocca di papà. Una delle coppie più apprezzate del mondo dello spettacolo, è stata sicuramente quella formata da Romina Pover e Albano Carrisi. Convolati a nozze nel 1970, dallo loro storia d'amore sono nati quattro figli, ovvero Ilenia, Iari, Cristina e Romina Junior. Ilenia, come è tristemente noto, è scomparsa all'età di 23 anni e da allora non si hanno più notizie. Il 21 aprile del 1973 è nato il secondo genito della coppia, ovvero Iari Carrisi. Cresciuto accompagnando i propri genitori in tornee fin da piccolo. Non è un caso che nel corso degli anni sia diventato a sua volta un bravissimo musicista. Non poteva non essere una cantautrice anche Cristel Carrisi, la terza figlia della coppia, nata il 25 dicembre 1985. Dopo aver seguito per un certo periodo di tempo gli stessi passi dei genitori, però, Cristel Carrisi si è affermata come stilista, conquistando un grande consenso. Se tutto ciò non bastasse, nel settembre del 2016 si è sposata con l'imprenditore Davore Luxi che dalla loro relazione è nato il primo genito Kai. A febbraio, inoltre, la coppia ha annunciato di essere in attesa del secondo figlio che dovrebbe nascere ad agosto. Una notizia che avrà sicuramente reso felici i nonni Albano e Romina Pover A febbraio, inoltre, la coppia. Grazie a tutti.